In questa breve video lezione noi compareremo il sistema cosiddetto tolemaico al sistema copernicano, ma ci interesseremo anche di qualcos'altro. Iniziamo a vedere innanzitutto da dove nascono il termine sistema tolemaico e sistema copernicano. Il termine sistema tolemaico non è così scontato come invece vedremo per il sistema copernicano, infatti tutto inizia dai calcoli di Eudosso di Cnido, che all'inizio del IV secolo a.C. comincia a esplorare e osservare la volta del cielo. Questi calcoli verranno poi raccolti da Aristotele e inseriti nel suo sistema cosmografico, siamo nel IV secolo a.C., in un sistema cosmografico un po' più ampio rispetto a quello di Eudosso di Cnido. Queste riflessioni aristoteliche, la sistemazione che Aristotele fa del sapere cosmografico in un sistema preciso, chiuso, ne parleremo nella prossima slide, vengono di fatto accolte completamente dall'astronomo egiziano del II secolo d.C. Claudio Tolomeo e sistemate e perfezionate in alcune sue parti. Per cui il sistema tolemaico deriva il nome appunto da Claudio Tolomeo, ma di fatto molte volte lo abbiamo anche chiamato sistema aristotelico-tolemaico, perché in fondo Tolomeo non ha fatto altro che puntualizzare, perfezionare quanto Aristotele avesse a livello globale fatto prima di lui. Il nome invece del sistema copernicano è molto più semplice, deriva da Niccolò Copernico, matematico, astronomo, nato nel 1473 e morto nel 1543, e in particolare si basa su una sua opera scritta proprio nel 1543, sulle rivoluzioni dei corpi celesti, sei libri sulle rivoluzioni dei corpi celesti che avrebbero di fatto messo in difficoltà, e vedremo poi successivamente perché, il sistema tolemaico, ma non solo il sistema tolemaico, anche la visione del mondo cristiano, come appunto era diffusa a quell'epoca. Da segnalare come il teologo Andrea Osiander, che cura appunto la prefazione di questo libro, si affretti nella prefazione a dire queste parole, parafrasando naturalmente. I calcoli di Copernico, seppure corretti, dovevano essere intesi come mere ipotesi matematiche. Quindi di fatto Osiander già capisce la portata di queste riflessioni di Copernico e cerca di fatto di collocare il sistema copernicano non nella sensata esperienza, cioè nella dimostrazione della veridicità di questo sistema e quindi della falsità di quello precedente, su cui si basava anche la Chiesa, ma accoglie il sistema copernicano, ma soltanto come pura ipotesi matematica. Su questo torneremo anche parlando con Galilei. Vediamo però un pochettino più nello specifico che cosa diceva il primo sistema e che cosa invece affermava il secondo. Allora, il sistema tolemaico riteneva l'universo una sfera delimitata da stelle fisse e sospesa nel vuoto. Al centro di questa sfera c'era la Terra, che era immobile, e qui teorizzato quindi il geocentrismo, quindi geo, quindi la Terra al centro dell'universo. Tutti i pianeti, ivi compreso il Sole, giravano attorno alla Terra con dei movimenti perenni e circolari. Importante anche questo passaggio. I pianeti erano fatti di materia incorruttibile perfetta, quindi materia diversa da quella che si trova sulla Terra. Attenzione con questo aspetto e torneremo anche su questo tra poco, che Aristotele chiamava Edere, mentre la Terra era fatta di elementi corruttibili, come si poteva vedere, come avevano già discusso i filosofi, acqua, aria, terra e fuoco. Quindi, per concludere, il sistema tolemaico era un sistema innanzitutto per prevedere un universo finito e su questo aggettivo torneremo successivamente con Giordano Bruno in un'altra video-lezione, e soprattutto che metteva al centro il geocentrismo, quindi la Terra al centro dell'universo. Questa teoria della Terra al centro dell'universo, cioè del geocentrismo, di fatto si sposava perfettamente con le idee che erano presenti nelle Sacre Scritture e che ponevano appunto l'uomo al centro dell'universo. L'antropocentrismo appunto, l'antropos, cioè l'uomo al centro dell'universo. Cioè, nelle Sacre Scritture abbiamo un'idea, una visione del mondo di un uomo che è al centro del mondo, creatura privilegiata dell'universo, creatura appunto prediletta da Dio. Proviamo a tirare una veloce conclusione. Il sistema tolemaico non faceva altro che dare una descrizione ovvia a un fenomeno come poteva essere quello del sorgere del sole. Anche noi oggi diciamo il sole è sorto, il sole sta tramontando, ma non pensiamo che il sole si muova. Quindi di fatto era una spiegazione piuttosto ovvia e scontata a una semplice osservazione del cielo. Ma quello che faceva impazzire gli astronomi è il fatto che i calcoli non tornassero. Cioè, quindi, presupponendo che tutti i Veneti girassero in modo circolare, perenne, sempre un movimento identico, attorno alla Terra, a un certo punto questi pianeti dovevano essere rivisti a distanza di un certo lasso di tempo nella stessa posizione che erano precedentemente. E questo non avveniva. E questa situazione faceva miccare il cervello e gli astronomi che non riuscivano, appunto, a tirare fuori dei calcoli precisi. Ed ecco che entra in campo il sistema copernicano. Il sistema copernicano prevedeva che i pianeti girassero intorno al sole e non intorno alla Terra. Quindi il concetto è quello del eliocentrismo, non più il geocentrismo, del sistema tolemaico, ma l'eliocentrismo, cioè il sole, Elios, al centro della Terra. Il sistema copernicano si basava su calcoli estremamente precisi. Ecco, abbiamo visto che uno dei punti deboli del sistema tolemaico fosse proprio la precisione dei calcoli. Quello copernicano è basato su calcoli precisi e se ci ricordiamo anche il teologo che ha fatto la prefazione al libro di Copernico aveva notato calcoli seppure corretti. Quindi si era reso conto che i calcoli copernico fossero, se non assolutamente corretti, molto vicini alla precisione. E quello che interessa di più non è che Copernico abbia portato avanti una semplice, tra virgolette, rivoluzione scientifica. Ma il sistema copernicano è una rivoluzione che va ben oltre l'ambito scientifico. Non è soltanto un eliocentrismo che si contrappone al geocentrismo, ma è un sistema di idee che si contrappone a un altro sistema di idee fino a quel secolo imperante che è il sistema cristiano, la visione del mondo cristiano che si basa su una lettura troppo letterale delle sacre scritture. Per cui il sistema copernicano andava evidentemente in contraddizione con diversi passi biblici, tra i quali quello più citato è quello di Giosuè, capitolo 10, 12, 14, sono appunto i versetti in cui Giosuè ferma il sole per permettere agli israeliti di riorganizzarsi in guerra. Ecco, questo è solo un esempio per dire come quella di Copernico non fu solo una scoperta scientifica, ma fu anche qualcosa che minò il modo di pensare del mondo, almeno fino a quell'epoca, e in particolare ovviamente andava a minare quella visione del mondo cristiana medievale, ed è un vero e proprio ribaltamento quindi dell'antropocentrismo, e cioè di quella visione cristiana medievale del mondo. Ecco perché, ma questo lo vedremo in un'altra video-lezione, la Chiesa scenderà di fatto in guerra con gli scienziati. In effetti, nello stesso periodo in cui Copernico ipotizzava questa sua visione del mondo, un altro sistema si diffondeva, non moltissimo, ma comunque era presente, era il famoso sistema ticonico. Il nome deriva da Tico Brahe, vissuto appunto nel periodo in cui stiamo trattando, cioè tra il 1546 e il 1601, il quale proponeva una visione del mondo intermedia tra il sistema tolemaico e quello copernicano. La Terra è al centro dell'universo, vedi sistema tolemaico, attorno alla Terra ruotano la Luna e il Sole, vedi sistema tolemaico, ma i pianeti ruotano attorno al Sole, vedi sistema copernicano. Quindi Tico Brahe decide di mettere insieme, fa quest'operazione insomma un po' particolare, poco scientifica, comunque fa un'operazione per cercare di mettere insieme due sistemi opposti. Si tratta di un modello meno sovversivo di quello copernicano e quindi più accolto meglio dalla Chiesa, veniva contestata l'idea aristotelica della fissità dei corpi celesti. Questo lo faceva con la famosa nuova stella che Tico Brahe riesce a scoprire e che per noi poi sarà una supernova, quindi una stella mai comparsa, diceva Tico Brahe, nell'universo, che andava appunto a contraddire l'idea aristotelica di un universo chiuso e fisso. Ed ora andiamo a vedere l'apporto di Galileo Galilei in questo dibattito tra il sistema tolemaico e quello copernicano. Galilei viene a conoscenza di uno strumento chiamato cannocchiale costruito in Olanda. Così lo definisce quando lo vede gli oggetti visibili pur distanti assai dall'occhio di chi guarda si vedevano distintamente come fossero vicini e Galilei allora decide di costruirsi uno suo personale perché con Galilei l'abbiamo già detto in un'altra video lezione lo scienziato non è soltanto il teorico ma è anche un personaggio che praticamente con le proprie mani si costruisce gli strumenti di cui ha bisogno per l'osservazione scientifica. Ma rispetto agli olandesi che lo utilizzavano sì per vedere vicine cose lontane ma di questa terra Galilei lo punta al cielo e il 1609 da questo momento la volta celeste darà non solo a Galilei ma a tutti quanti noi darà delle risposte molto nuove molto particolari rispetto a quelle che venivano ipotizzate dai sostenitori del sistema tolemanico. Galilei passa un inverno a guardare il cielo scopre che la superficie della luna è irregolare come quella della terra che vuol dire che non ha ragione Aristotele che riteneva solo la terra fatta di materiale corruttibile e gli altri pianeti la luna compresa fatta di etere cioè di materiale incorruttibile. Anche la luna sembra avere crateri come la terra anzi c'è gli ali vedo scopre anche degli anelli attorno a Saturno vede le macchie solari quindi il sole non appare anch'esso in una forma perfetta mette in luce la vera natura della Via Lattea quindi sgombrando il campo a una serie di ipotesi completamente destituite da ogni da ogni rigore scientifico ma soprattutto scopre che gioca a quattro satelliti io Europa Ganimere e Callisto i primi tre molto grandi poi verranno scoperti molti altri ma quello che è importante questi satelliti che Galilei chiamerà mi dice e poi spiegheremo perché nella biografia di Galilei dimostrano che cosa che all'interno del sistema solare non tutti i pianeti girano attorno alla Terra c'è un altro pianeta attorno a cui appunto ci sono quattro satelliti quindi quattro altri pianetini che girano attorno ad un altro pianeta quindi nel nostro sistema solare la Terra non è l'unico pianeta caratterizzato da satelliti e come vedete questa questa la visione del punto di Giove attraverso uno strumento quello che chiameremo telescopio a questo punto perché cannocchiale è un po' riduttivo attraverso questo strumento Galilei arriva a smontare non più solo come mero calcolo matematico il sistema tolemaico ma in maniera molto molto profonda queste affermazioni Galilei le raccoglie in un libro scritto in latino del Siderius Nuncius pubblicato nel 1610 e da questo momento comincerà a avere qualche problemino con la Chiesa Cattolica ma di questo parleremo in un altro video